musica 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 buon ragazzi io sono jesus e oggi siamo su overwatch e dobbiamo attaccare comunque cosa volevo dirvi ok sto giocando a overwatch non perchè l'ho acquistato ma perchè abbiamo questa settimana è l'overwatch weekend non so come possiamo chiamarlo e ho failato miseramente perchè è la prima volta che uso regno che fail incredibile va bene è la prima volta che uso questo tipo di tank in realtà sono abituato a usare in attacco genji e come curatore zegnatta brutta idea brutta idea bruttissima idea da cucco gamer sono stati deciso e comunque cosa si può dire tra una volta e l'altro il martello reazione di aveva le varie niente ok però abbiamo comunque vinto no ma devo uscire non ci pensare neanche non ci pensare tu vinto no ma si parla bene e non li aspetti o說 il bambino fumo 1 o la bariena funzione quando ci accolti una parola per niente di duck rock ok come un bambino che mi ha dato il bambino che non ci sento regno a curare poi non ci sento la carta per niente di duck rock to the palla per niente di duck rock to the back da minus of how to do the back Rocco ginatto il bambino che ero co rei quella moscia dì è Sono morto e abbiamo vinto Questo è l'importante Vincere Io mi autovoto Viva l'egoismo Abbiamo sbloccato un forziere A fine episodio vorrei aprirne un paio Facciamo un paio di partite Magari dopo ne... Li apriamo Partite rapida Comunque riprendiamo Porca miseria Magari fosse così Heroes of the Storm Qua proprio si connette Pam Spero che non sia già iniziata Magari funzionasse così Cosa siamo messi noi? Nessun tank e nessun guaritore Ragazzi inculatevi Cioè Intanto ragazzi Genji Può fare il doppio salto E può anche arrampicarsi sulle pareti Non per molto ma Quanto basta Porta porca la miseria Sono manco uscito Questo è l'obiettivo Invece Mostrami cosa sai fare No dove sono finito? L'obiettivo è mio Scusate strunzi bro Strunza Sorry Mi so... Ecco Quello è male Avevo visto una mercy Ecco là Vieni qua Vieni qua Vieni qua Infame Una pioggia di giustino Dove è finita la zia? Vabbè Brutta Brutta idea Brutta idea No Ero così vicino Così vicino Ucciderli Ci stava la strategia Dovete ammetterlo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Chi è che ha fatto il... Anzo Va bene Non ho visto neanche se era nostro Vediamo che ha fatto Ah è la kill in parte a quando l'avevo fatta io Ne ha fatta fuori una Ah no Ne ha fatti fuori due per qualche motivo misterioso Il loggia Abbiamo visto il tank Abbiamo visto... Potremmo guardare il caricatore Il caricatore What? Allora Zeniat A differenza di Genji Che può deflettere i colpi È un guaritore Quindi Deve guarire E sono morto Sorry Pensavo di avere un po' più di vita Abbiamo un tank Un tank tra 40 genoi Nessun tank Ok Che switchiamo Non rodo Ok Ne ha ucciso uno Ne ha ucciso uno E perché ho delle frecce incastrate nella barriera Ok Va bene Va bene Va bene Not bad No No Cosa Ho attaccato a te Kiro Kuroa E lo stai facendo No L'ho schivato Si può fare È licito È licito fare quella No No La torretta La torretta La torretta Watakateri Kurokurao Era la nostra Oddio Santissimo Porca mia Porca mia Non è che riesce a darmi a me Le highlights Prima di concludere il video No Kai Ho sottato a 76 Mi sa che era l'avversario No No Era nostro Si 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 Era nostro Sono in trappola Porca miseria Quanto togli Non ci capisco niente Wow Dai che prendiamo l'obiettivo Dai che prendiamo l'obiettivo Che è successo Che è successo Che è successo Eh vabbè Eh vabbè Dove sono? Qualcuno mi dica Dove c'è? Che non ci capisco niente Ci stanno respingendo malamente Che non ci capisco niente Così? Sì Così Sì 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 Ma che team ho fatto? E dove sono finito? Bumma in foca! Ah Ok Dai siamo a 1.82 vi prego Vi prego siamo a 1.82 Manca un Conteso Sempre conteso Sempre dannatamente conteso Alla ulti Dai non moriamo Marino Eci un uomo Ho protetto una, eh, ho protetto perché... Dai! Sì! Come abbiamo vinto! Dai, voglio... Voglio il play of the match. Sì! Sì! Play of the match! Guardatela qua! Cos'è sta cosa? Ah, ok, quando ho fatto... Eh sì, sì, era questa, era questa. Bam! 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 Bellissimo! Dai, 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 epico! Voglio l'epico! Voglio l'epico! Sì! Vai! Se lo dico io! Come lo valutiamo tantissimo! I miei azioni totali 7 sono migli e 399! Livello 7 raggiunto, ragazzi! E abbinino un forziere! Eh, direi di andare a aprirli! What? Ah! Cosa strana! Cosa strana! Cosa strana! Solo io trovo una leggendaria! Diana! Ci ha trovato una leggenda... Oh, Renor! Posa vistoriosa! Vediamo! Ehi! Nerson non mi capitano mai le leggendari! Due epiche! La stessa epica! Ok! Ah no! Due epiche diverse! Dello stesso personaggio! Ah! Quando ci sono gli highlight! Beh, è carina questa! Tutte rare! Tutte rare e lagganti! Icona! Posa vittoriosa! Va bene! Anzo! Posa vittoriosa! Carina! Mua! Solo una leggendaria! Ma possiamo accontentare! Uh! Scusa, sì? Sì! Sì! Carina! Potrei farlo tutto il giorno! Potrei farlo tutto il giorno! Sì! Ehi! Non c'è salute! Perché... Sì! No! Solo sì! Va bene! Bene! Ah! Guardate! Ah! Quei di Halloween! Molto interessante! Ok ragazzi! Spero che questo video su... Ah! Galleria! Diverse cose! Bene! Spero che questo video su Overwatch vi sia piaciuto! Quindi lasciate un commento! Mi piace! Iscrivetevi! Se sarà uscito un po' laggante! Mi spiace! Ma il mio computer è quello che è! Non ho neanche messo le impostazioni corrette per Overwatch! Quindi... Passateci sopra! Però noi ci vediamo in un prossimo video! Quindi... Bella ragazzi!